Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Emanuele Pocchiola, giocatore del Fiano Plus. Una sconfitta purtroppo in Coppa Italia, questo pareggio proprio all'ultimo secondo che vi estromette dal prossimo turno della manifestazione. Purtroppo è andata male, abbiamo giocato contro una squadra, a mio avviso, niente male, è una squadra organizzata, ha giocato bene sia andata che ritorna e purtroppo per un gol siamo usciti all'ultimo alla fine. È amaro per questo, però è così, il campo è così. Una squadra la vostra che ha fatto molto bene soprattutto nella seconda fase della partita, poi quando c'era l'ora di difendere questo vantaggio, quel gol maturato grazie al gol in trasferta nella gara di 15 giorni fa, avete avuto una disattenzione dopo il palo colpito dal vostro portiere. Infatti siamo qui a parlare di questo, se il nostro portiere avesse segnato sarebbe forse finita lì. Palo, capovolgimento e gol degli altri, purtroppo sono andati avanti loro. Per te questo è un ritorno a Fiano dopo due anni a grosso, una squadra neopromossa la vostra, cosa vedi in questo campionato che sta per iniziare? È un campionato molto più difficile dall'altro anno, dovremmo cercare di salvarci e poi tutto quello che viene in più ed è buono. Carmine Morelli, giocatore dell'unico net in Michelino. Carmine, un gol decisivo il tuo, 3-3 nel finale, un risultato che vi permette di passare il turno in Coppa Italia grazie anche alla vittoria dell'andata. È un risultato abbastanza sofferto perché oggi sotto porta non entrava sempre, anzi abbiamo fatto abbastanza difficoltà. Per fortuna mi hanno trovato un gol alla fine, passiamo il turno, andiamo a affrontare la prossima squadra a carichi. Una doppietta per te in questa partita, come ti trovi con i nuovi compagni? È un bel gruppo, il nostro ormai è un gruppo che ci trasciniamo da qualche anno, abbiamo fatto degli ottimi innesti che abbiamo accolto bene, il mister, anche lui nuovo, e andiamo avanti, cerchiamo di affrontare l'anno al meglio dei modi. Ecco, tra l'altro lunedì inizia la C2, una C2 che si preannuncia più difficile che mai, ci sono delle squadre allestite per vincere questo campionato, quale sarà il ruolo dell'Uniconet? Cerchiamo di arrivare almeno ai play-off, ce la giochiamo con tutte le squadre, sono tutte quante forti, preparate, siamo 5 o 6 squadre che possiamo stare là sopra, noi cercheremo di fare la nostra.